Buongiorno a tutti, sono Erika De Luca e frequento il terzo anno di accoglienza turistica. Buongiorno a tutti, sono Erika Stiglioni e frequento anche il terzo anno di accoglienza turistica all'Istituto Alberghiero di Quarnaredo. L'Istituto Alberghiero di Quarnaredo è la sede associata dell'Istituto Palofresi di Milano, specializzata nell'astronomia e l'ospitalità alberghiero. La scuola è stata inaugurata nel 2016 ed oggi accoglie 390 studenti. Lo chef stellato Davide Oldani, nostro mentore, ci accompagna fin dalla nascita della scuola. Il percorso ha durato di 5 anni e subito dopo i primi due anni ogni studente ha la possibilità di scegliere tra tre diversi profili professionali, accoglienza turistica, cucina, sala e bar. È in progetto anche la realizzazione del laboratorio di pasticceria. Durante il terzo e il quarto anno gli studenti svolgono attività di alternanza scuola-lavoro all'interno di importanti aziende del settore. La nostra scuola è situata nella cittadina di Cornaredo, a pochi chilometri da Milano, ed è ben collegata con gli autobus, dalla stazione di Rò o da un molino d'Orino. Diversi collegamenti rendono raggiungebile l'Istituto. Cultura e professionalità, unita curiosità, creatività e intraprendenza sono il bagaglio che viene fornito per l'inserimento a pieno titolo e con successo nel campo professionale. I rapidi mutamenti nel mercato del lavoro richiedono spesso continui aggiornamenti che suggeriscono a alcuni diplomati di proseguire gli studi con post-diploma. Altri invece intraprendono percorsi a livello universitario, specialmente i nuovi indirizzi delle scienze turistiche, delle tecnologie alimentari, della ristorazione e della viticoltura ed enologia. Lengue straniere, economia e giurisprudenza. Venite con noi a fare un tour della nostra scuola. La prima cosa che notiamo entrando nell'ora dell'Istituto è il banco del front office. Buongiorno, istituto alberghiero Ormo di Cornaredo, sono Elena e come posso essere d'aiuto? Buongiorno a tutti, sono Ligieta e frequento il terzo anno nell'Istituto Ormo di Cornaredo. Buongiorno a tutti, sono Ricchia e anche io frequento il terzo anno nell'Istituto Ormo di Cornaredo e adesso vi faremo vedere uno dei nostri laboratori. Buongiorno a tutti. Al piano terra dell'Istituto troviamo due cucine, una con postazioni singole con piani induzione che permettono di adattare l'ambiente a varie esigenze di servizio, mentre l'altra cucina con fornelli a gas. Buongiorno a tutti. Entrambe le cucine sono direttamente collegate con due sale di ristorante. La sala panoramica più grande che ospita tutti i giovedì il famoso ristorante didattico, aperto al pubblico e l'altra sala attrezzata come un vero bar. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgio e sono uno studente frequentante alla terza B all'Urma di Cornaredo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Algo e sono una studentessa frequentante alla terza B all'Urma di Cornaredo. E oggi vogliamo fare un tour sul nostro laboratorio. La sala bar permette a tutti noi di imparare la preparazione di cocktail e caffetteria, diventando così un perfetto laboratorio per il corso di sala, nonché sviluppare competenze e professionalità come ho detto alla vendita. La mission della scuola è di imparare i nostri studenti e la professionalità al mondo del lavoro fino al primo giorno attraverso la competenza di disciplina, l'acquisizione delle luminate competenze e il gioco di scuola. Il nostro istituto è una realtà consolidata e riceviamo per questo ogni anno diverse richieste di iscrizione e ciò ci invita a proiettarci verso sfide sempre più grandi. Veniteci a trovare! Grazie a tutti! Grazie Grazie a tutti!